L'anno del Green Deal europeo, per questa ragione, lo Europe Direct Trapani Sicilia ha centralizzato le azioni di riferimento della festa dell'Europa con riferimento all'acquisizione di consapevolezza da parte dei ragazzi sul valore della biodiversità e sul valore della tutela dell'ambiente, uno dei pilastri fondamentali appunto della politica europea per il prossimo futuro. Proseguono i lavori e ancora una volta con la logica del calpestio, cioè portare i ragazzi nei luoghi che sono luoghi riconosciuti dall'Unione Europea e nella fattispecie all'interno della riserva naturale delle saline di Trapani Paceco, proprio perché è area di riferimento comunitario per Rete Natura 2000. Grande area di riserva, importantissima dal punto di vista territoriale, è importante che i ragazzi sappiano il valore di quest'area tutelata dall'Unione Europea attraverso norme comunitarie specifiche. Cosa abbiamo detto ai ragazzi? Sì che hanno una grande responsabilità, oggi hanno sollevato le tessere della bandiera dell'Unione Europea e guardarli mi è sembrato vedere nelle loro mani il nostro futuro, il futuro dell'Unione Europea. Oggi sono qui e li abbiamo accolti a braccia aperta in questo sito che è un sito della regione, una riserva naturale istitutata della regione, è un'area Ramsar, cioè un'area umida di importanza internazionale, ma è un'area che fa parte della Rete Natura 2000, il pilastro della strategia europea di conservazione della biodiversità. Quindi noi qui conserviamo valori ambientali che sono unici, ma non soltanto per il nostro territorio locale, ma sono unici a livello planetario e a livello europeo. Oggi veramente è stata molto interessante perché i ragazzi, grazie anche agli insegnanti, avevano già un terreno preparato per cui abbiamo approfondito questi aspetti legati alle singole specie. La cosa più interessante è quando loro scoprono che dietro ogni specie c'è una storia. La natura racconta sempre qualcosa di curioso dagli insetti, dalla dettaglia dubbia che questo è endemismo, che alla femmina priva di ali, oppure su, parlando di abitudini degli uccelli, rimangono sorpresi da quanti chilometri fanno o dalle abitudini che hanno, dal perché loro, questi animali frequentano le saline. È stato proprio bello vedere appunto l'importanza del WF e quindi grazie all'Europa, si è parlato appunto di questa, grazie all'Europa riusciamo a proteggere questa riserva che è così importante. Grazie.